La Bibbia cristiana si racconta che il re di Babilonia, Nabucodonosor, siamo nel VI secolo a.C., dopo aver vinto la guerra contro i Medi, affidò al suo generale Oloferne la campagna d'Occidente. E qui, in questa campagna, Oloferne si scontra con il popolo di Israele. Allora chiede al suo sottoposto, che si chiama Achior, chi fossero questi israeliti. E Achior gli risponde che il popolo di Israele era considerato invincibile, perché aveva un dio che lo proteggeva. A patto che però gli israeliti non trasgredissero le sue leggi. Possono attaccare soltanto se vengono a sapere che c'è stata qualche trasgressione alla legge del Signore da parte del popolo israeliano. Altrimenti è meglio tirare avanti, lasciando stare il popolo di Israele, perché questi era invincibile con l'aiuto del Signore. Oloferne non piace questa risposta. E allora ordina ai suoi di abbandonare Achior, ai nemici, e lo lascia legato vicino alla città di Betulia. E qui gli israeliti lo slegano, lo conducono a Betulia e lo interrogano. E quello che racconta Achior aumenta la paura del popolo di Israele, che a sua volta aumenta le preghiere, i sacrifici al Dio, e pregano che Achior rimanga con lui quando Oferne attaccherà. E qui incontriamo Giuditta, che è una bella e ricca vedova. Mentre Betulia è cinta d'assedio da Oloferne, viene a sapere che ormai i cittadini non sanno più come resistere ad Oloferne e sono disposti a cedere la città, che entro cinque giorni è destinata a cadere se non avviene un miracolo da parte del Signore. E allora Giuditta si rivolge ai capi anziani della città e li rimprovera perché non hanno abbastanza fede nel Signore. E poi, convinta che Dio l'avrebbe aiutata, cosa fa? Si veste, si rende molto piacevole e attraente, accompagnata da un'ancella va nel campo nemico, dove c'è Oloferne. Viene catturata e portata davanti ad Oloferne, che è colpito dalla sua bellezza e quindi vuole farla sua. E cosa fa Giuditta? Racconta ad Oloferne che il popolo ebreo ha offeso gravemente Dio e quindi lo inganna dicendo che Dio le era apparso affinché aiutasse Oloferne a occupare la città e ad entrare nella città. E Oloferne ci cade nella trappola e quindi fa sì che Giuditta rimanga tre giorni a pregare con lui per chiedere l'approvazione del Signore e le fa preparare un gran banchetto. E vuole che lei si sieda con lui al banchetto. Giuditta lascia credere a Oloferne di essere innamorata di lui. Durante il banchetto è compiacente, è docile, mangia, beve con lui e lo fa ubriacare. E quando tutti quanti se ne vanno, Giuditta rimane sola con Oloferne che è steso sul divano, pieno di sonno, mette la sua ancella a guardia della porta e poi dopo aver pregato Dio che le guidasse il braccio prende uno spadone e taglia il capo ad Oloferne. Quindi prende la testa di Oloferne e aiutata dalla sua ancella la mette in una bisaccia, in un sacco e insieme tornano a Betulia dove il popolo, vedendo la testa di Oloferne e sentendosi raccontare questa storia, la acclama come un'eroina. E così la testa di Oloferne viene esposta sulle mura della città e gli assili spaventati se ne scappano, inseguiti dagli israeliani. Questa è la storia ed è una storia che è stata molto raccontata, ripresa anche nella pittura, quindi molto rappresentata. E come viene vista anche in questi quadri questa storia? Viene vista o nel momento in cui Giuditta si appresta o sta tagliando la testa ad Oloferne, ma soprattutto viene vista quando ha già tagliato la testa di Oloferne e allora c'è il problema di prendere questa testa e di metterla nel sacco. E vediamo in quasi tutti i quadri, anche qui che scorrono, vediamo che Giuditta guarda la testa di Oloferne finché Oloferne ce l'ha ancora attaccata al collo, quindi finché si appresta a sgozzarlo, no? Perché è chiaro, insomma, deve prendere la mira, insomma, deve guidare con l'occhio e lo spada. Ma vediamo anche che una volta che la testa è staccata dal corpo, questa testa viene afferrata quasi sempre per i capelli. La rappresentazione quindi è quasi sempre di una donna che afferra questa testa per i capelli, che sono l'unico strumento, insomma, che è l'unico appiglio o l'appiglio più importante, insomma, che c'è per afferrare la testa staccata dal corpo. La testa che di per sé è qualcosa di spaventoso, insomma, qualcosa di orribile nel momento che è un capo decapitato, un capo mozzo. Questa testa è tenuta quasi sempre distante o abbandonata in basso oppure portata di fianco, di lato e vediamo che in quasi tutti i quadri non viene mai guardata direttamente, è qualcosa che incute terrore. Giuditta guarda sempre in un'altra direzione, diciamo nella direzione contraria di solito di dove tiene la testa. Questo capo che per essere tenuto, per essere portato, ha bisogno di essere tenuto per i capelli e vedremo che sempre, insomma, o quasi sempre nelle rappresentazioni, Giuditta regge per i capelli la testa di Oloferne e poi viene trasportato in un sacco, viene messo in un sacco e viene trasportato in un sacco. Per cui ci sono quadri in cui vediamo questa operazione, quella di mettere, o che si accingono a mettere, la testa nel sacco. Allora teniamoci in mente questo modo di rappresentare una testa mozza e di tenere una testa mozza, una testa che è un qualcosa di rotondo, è un globo, ma è anche un qualcosa che appunto incute terrore. Allora ci viene in mente un'altra testa che è quella di Medusa, la testa di Medusa, che non sopporta lo sguardo, perché cosa fa Medusa? Pietrifica chiunque la guardi. Non si può affrontare direttamente il mostro Medusa con lo sguardo. Chi riesce a sconfiggere Medusa, Perseo, viene istruito, prima di arrivare a quest'azione, viene istruito e gli viene detto che lo sguardo di Medusa non è sopportabile, può guardarla soltanto in maniera riflessa, indirettamente, attraverso uno specchio. Ed è questo il modo che avrà Perseo per poter vincere e recidere il capo a Medusa. E anche Perseo, quando lo vediamo reggere il capo di Medusa, lo terrà per i capelli. E' quello il modo di tenere un capo mozzo, insomma, l'appiglio, la maniglia, attraverso cui sorreggere, sollevare, che non è più una testa, che non è più attaccata al colo. Allora, questa storia, quella di Giuditta e di Oloferne, per arrivare a un'altra storia in cui assistiamo a una decapitazione. Ed è la storia, questa volta, di Salome. La storia di Salome, invece, è più recente e la veniamo a conoscere attraverso i Vangeli di Marco e Matteo. Sappiamo che Erode Antipa aveva in Giovanni Battista e nel suo movimento una potenziale minaccia per il suo governo. Per eliminare questa minaccia, Giovanni viene incarcerato, viene messo in catena nella fortezza, in una fortezza vicino al Malmort. Per brevità sintetizzo questa storia. Durante un soggiorno a Roma, Erode Antipa, quello di cui parla il Vangelo, tanto per intendersi, intracciò una relazione con Erodiade, la quale Erodiade era la cognaccia, era moglie del fratello di Erode, Filippo. Ripartendo per la Galilea, il re Erode Antipa si portò con sé Erodiade e se la sposò. E questo fatto destò molto scandalo, perché Erode Antipa a sua volta era già sposato con la figlia del re Areta IV e anche perché Erodiade era una sua nipote e la legge di Mosè proibiva un'unione tra consanguinei. Erode Antipa fa arrestare Giovanni Battista. Perché? Perché nella sua predicazione al popolo Giovanni Battista rimproverava ad Erode questa relazione illecita con Erodiade. Erodiade è anche molto arrabbiata per questa predicazione di Giovanni Battista. Tanto è vero che vuole farlo uccidere. Ma Erode ha paura di farlo uccidere, perché ha paura che il popolo in qualche modo si ribelli, perché il popolo è affezionato, crede alla predicazione del Battista e ha un timore. reverenziale nei confronti del predicatore. Qui si gioca tutto l'episodio della danza di Salomè di fronte ad Erode. Perché Erodiade ha bisogno di strappare questo consenso ad Erode e per far questo gioca con l'inganno. E durante una festa manda la figlia, molto più seducente, con delle armi erotiche molto più affilate delle sue, manda la figlia a danzare davanti ad Erode. Quindi Salomè, figlia di Erodiade, si esibisce in una danza davanti ad Erode. E questa danza piace molto al re e promette a Salomè di darle in premio tutto quello che avesse voluto. Fosse anche la metà del suo regno. Bene, questa è la storia, perché poi si racconta che questa ragazza non sa cosa chiedere. E alla fine, estigata invece dalla madre, chiede che le sia portata su un piatto d'argento la testa di Giovanni Battista. Questo Giovanni Battista che nel frattempo è in prigione perché era stato fatto arrestare un tempo prima da Erode, ma arrestato sul mar morto, ma non messo a morte perché appunto Erode aveva paura. Di fronte alla richiesta di Salomè, però Erode Antipa non può venire meno al suo giuramento, dopo che l'aveva promesso davanti a tanta gente. E quindi manda a decapitare Giovanni Battista e questa testa viene portata a Salomè. Questo è quello che si racconta. Questa è la scena. Questa scena però possiamo anche vederla da un punto di vista simbolico e possiamo cercare di immaginare quello che si gioca in questa scena, in questo scenario, quello che c'è in gioco. In gioco c'è il funzionamento del mondo e il suo controllo, cioè quello che controlla il funzionamento del mondo, e cioè c'è una lotta per il potere. Abbiamo detto che è il compleanno di Erode e che la figlia di Erodiade, Salomè, danza. Quando Salomè danza, i due personaggi chiave di questo scenario sono fuori, sono invisibili. E chi sono? Il Battista, che si trova già in prigione, dove Erode lo ha fatto mettere per meglio proteggerlo da Erodiade. Erode, abbiamo detto, teme Giovanni, lo teme come predicatore. Però perché? Cosa teme di Giovanni soprattutto? Cosa rappresenta Giovanni? Qual è il potere di Giovanni e della sua predicazione? Giovanni è il Battista, cioè colui che esprime il linguaggio, il logos, la parola, il verbo, cioè colui che assegna i nomi alle cose, cioè colui che dà il nome a tutto ciò che esiste. E assegnando il nome alle cose, fa sì che le cose esistano, determina, cioè, l'ambito all'interno del quale il potere del re si svolge. Senza, se le cose non hanno un nome, non c'è il luogo dove il potere del re può esercitarsi. Perché il potere terreno del re si può esercitare soltanto su ciò che è. Ma ciò che è, lo è in quanto possiede un nome. Lo possiamo denominare, lo possiamo individuare, localizzare. E chi stabilisce il nome delle cose, e chi stabilisce ciò che è, se non chi dà i nomi. Ecco quindi il potere del Battista, è quello di dare il nome alle cose. Erodiade ha sposato Erode, ha seguito Erode perché vuole il suo potere, vuole il potere. E per questo mette davanti ad Erode la figlia. Erodiade ormai ha una certa età, non è più così seduttrice. Sa che non ha più la capacità di sedurre, che invece può avere la figlia, che pare a quei tempi abbia sedici anni. E cosa fa il vecchio re Erode? Offre metà del suo regno purché Salomè continui a danzare. Danzi. E cosa significa danzare? Significa muoversi. Muoversi in un equilibrio che è sempre precario e continuamente si ripristina. Significa uscire da un equilibrio ed entrare in un nuovo equilibrio, ma significa rimanere, nonostante le oscillazioni. Quindi danza come un muoversi in un equilibrio. Anche questo cosa rappresenta? Se non il simbolo di un potere che per durare ha bisogno di ritrovare continuamente stabilità dopo che ha perso stabilità. In un mondo che cambia vorticosamente, il re ha bisogno di riportare l'equilibrio dove questo equilibrio viene a mancare. Quindi è disposto, pur di far durare il suo potere, parliamo sempre simbolicamente, di dare in cambio metà del suo regno a Salomè purché gli insegni il segreto della sua danza, cioè del suo mantenersi in piedi, nonostante le piroe, nonostante i continui spostamenti, nonostante quindi le continue perturbazioni del suo equilibrio, ma del ritrovare sempre la stabilità. E quindi Salomè riceve un'offerta, un'offerta che può arrivare anche alla metà del regno. Ma Salomè è giovane, piccola, non sa cosa fare. E allora va dalla mamma che è fuori della scena, è dietro l'angolo, e probabilmente osserva quello che sta succedendo perché è lei che ha ispirato tutto questo. Va dalla mamma e chiede istruzioni. Le basta un attimo. Allora Salomè chiede alla mamma cosa posso chiedere? La mamma, la testa del Battista. Salomè rientra e chiede voglio che tu mi dia su un vassoio la testa di Giovanni Battista. E noi ci chiediamo cosa si sono dette in quell'attimo in cui si sono guardate per capire il motivo della richiesta di Salomè. E qui l'interpretazione interessante è quella di René Girard, secondo il quale la madre si rivolge alla figlia, Salomè, esprimendosi in un linguaggio naturale, linguaggio naturale che usa le metafore per esprimersi. Ma la figlia è giovane, piccola e non coglie il linguaggio metaforico. Allora noi diciamo voglio la testa di qualcuno che significa voglio che questo qualcuno sia ammazzato. Vuoi la mia testa, insomma, vuoi farmi morire. Però la figlia, Salomè, non cogliendo il linguaggio metaforico, pensa che una testa sia una testa. E allora chiede effettivamente la testa del Battista e la chiede su un vassoio, su un piatto. E qui manca la spiegazione del piatto, del vassoio, che però è quella presenza che noi poi troviamo in tutta l'iconografia che riguarda Salomè e questa storia, come viene rappresentata nella pittura, dove questa testa è portata letteralmente su un piatto. Ed è questa comparsa del piatto, del vassoio, che ci interessa, insomma. Perché la storia di Salomè è quella della comparsa di questo piatto. E la testa che vediamo rappresentata non è più una testa tenuta per i capelli, ma è una testa che poggia su un piatto. Quindi la necessità di un supporto a questo punto, la necessità dell'esistenza di un supporto che entra nella cultura occidentale, quindi nello scarto tra un significato letterale e metaforico, cioè nel fatto di volere la testa di Giovanni, come chiede Erodiade, e di volere che gli sia portata la testa di Giovanni su un piatto o su un vassoio, come chiede Salomè, in questo scarto tra un linguaggio letterale e metaforico che entra in scena il piatto, il vassoio, come protagonista. E, tutto sommato, pare che questa storia di Salomè serva a giustificare l'intrusione di questo piatto. E a tale intrusione, a quella del piatto, serve la storia di Salomè. Abbiamo visto per Giuditta, per la testa di Oloferme, che questa testa veniva tenuta per i capelli e poi veniva portata in un sacco, introdotta in un sacco. La testa, invece, di Giovanni Battista viene offerta, viene offerta in un piatto a Salomè. Anche qui, nell'iconografia, lo sguardo stenta a indirizzarsi sulla testa, stenta a reggere la visione di un capomozzo. Piatto. Su un piatto non si può mettere una cosa viva. Su un piatto ci può stare soltanto qualcosa che è morto. Nessuno vi porterebbe un pesce vivo su un piatto o un gambero vivo, insomma, qualcosa che non sia morto. Quindi, per mettere un qualcosa su un piatto e portarlo, bisogna ucciderlo, lacerarlo. Quindi la testa ha subito una lacerazione e questa lacerazione è quella che si rivolge soprattutto alla fonte del potere del Battista, potere che era legato al potere della parola, al potere della predicazione e della denominazione delle cose, dell'oggo. Bene, questo potere viene eliminato col taglio della gola. Allora qui vediamo che quello che viene messo sul piatto, cioè la testa, viene ridotta a segno, a qualcosa che sta per qualcos'altro. E senza l'esistenza del piatto, senza l'esistenza di quello che è piatto e che quindi rappresenta una tavola, una mappa, non ci potrebbero essere segni. E questo segno sta per la sostituzione del logos, del linguaggio, con quello della tavola, della rappresentazione sulla carta. Questo è il prezzo che si rischia di pagare, si paga, si deve pagare quando si vuol ridurre un qualcosa che è di per sé irriducibile, che ha una totalità, una sfera, un qualcosa che non è conoscibile nella sua interezza, quando lo si vuole ridurre in una mappa, quando lo si vuole rappresentare da una dimensione tridimensionale in una dimensione bidimensionale. che non è conoscibile. Grazie.